Questa foto è uscita con quella dei carabinieri, copie il link, vai su debug di Facebook, cercalo, cercalo, ho trovato, debug Facebook, ecco qua, debug, vai su Google, c'è che debug Facebook lo trovi, ecco qua, debug di condivisione, apri, metti il link qua, qua, fai debug, fai scrapping, vedete la foto dei carabinieri, uscite su Facebook, fai, 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 fai scrapping, fai, esegui scrapping, esegui lo scrapping, di nuovo, ed esce finalmente la foto, ora vai di nuovo sul sito e ti trovi la foto fatta bene e ora devi condividere.